I madonnari per la legalità, che attinenza ci può essere tra l'arte e quello che è un po' il rispetto delle regole? Innanzitutto bisogna considerare il rispetto delle regole e soprattutto ringraziare i ragazzi che sono stati 4-5 ore buttati per terra a sforzarsi di pensare a quello che per loro rappresenta la legalità. Quindi noi abbiamo avuto degli ottimi disegni, ognuno dei ragazzi ha pensato a modo proprio come rappresentare la legalità, chi ha presentato la solita scimmietta con le tre manine, non vedo, non sento, non parlo, ma chi ha scritto tante altre cose e soprattutto i disegni che rappresentavano anche l'immagine di Rosario Levatino e l'immagine di Falcone e Borsellino con la scritta voi siete morti ma le vostre idee camminano sulle nostre gambe. Quindi è stato un momento aggregante per i ragazzi e li abbiamo costretti a pensare a quello che è la legalità, ma soprattutto al rispetto delle regole, al rispetto di sé e al rispetto degli altri e abituarsi a quelle che sono le regole che bisogna seguire e soprattutto il dovere, dire loro e far capire loro che bisogna essere credibili per quello che si fa. Non si fa semplicemente il lavoro perché si deve fare ma soprattutto perché ci si crede. Oggi la cerimonia di premiazione quindi con la presenza di tutti i ragazzi che hanno partecipato? Noi abbiamo invitato tutti i ragazzi che hanno partecipato, alcuni riceveranno semplicemente l'attestato di partecipazione, altri per ogni categoria, scuola prima media, seconda, terza media, superiore, gruppi che hanno vinto, tre ragazzi e tre gruppi naturalmente verranno premiati. Ma il problema non è tanto essere premiati ma quanto avere partecipato, come diceva il signor De Goubertin. L'importante è partecipare per cercare di capire e di pensare a quello che dobbiamo fare e quello soprattutto che non bisogna fare. È un percorso di educazione alla legalità che inizia dal primo giorno di scuola, trova un momento clou con i madonnari, con questa manifestazione dei madonnari che è stata appunto fortemente voluta dall'Istituto Verga e dalla preside G. Pilaro che mi ha preceduto nella dirigenza e che continua nel corso dell'anno. Oggi è il momento della premiazione di questi ragazzi che si sono impegnati nell'attività dei madonnari, ma che nel corso dell'anno hanno fatto tanto altro. Hanno avuto incontri con magistrati, hanno avuto incontro con sociologi per quanto riguarda il cyberbullismo, per quanto riguarda tutto ciò che riguarda sostanzialmente la legalità. E quindi è un momento che sottolinea un percorso iniziato all'inizio dell'anno, iniziato a settembre e finito con la fine dell'anno scolastico. La polizia vicino ai cittadini, anche la partecipazione a queste cerimonie che sembrano lasciare il tempo che trovano, però sono importanti perché mettono a confronto quelli che sono i cittadini del domani con chi oggi rappresenta lo Stato in questo territorio difficile. Poi se c'è anche l'esempio di Rosario Libatino diventa tutto più bello, no? Insomma, i ragazzi vedono che c'è il commissario di polizia, il comandante dei carabinieri e sono sempre contenti di trovarci assieme, anche perché noi siamo sempre con loro. Queste manifestazioni per i ragazzi sono assolutamente essenziali perché li fanno entrare in questa sorta di idea che la legalità non sia un concetto proprio slavato, lontano, ma si deve vivere di legalità giorno per giorno. Perché se noi ci troviamo in una Sicilia che è costretta ad esportare cervelli è anche perché un certo tipo di criminalità ci ha distrutti. E quindi che le scuole facciano questo lavoro di ricucitura è assolutamente essenziale. È difficile lavorare nella terra che è stata di Rosario Libatino? Lei ha trovato una situazione comunque diversa da quella che le è stata descritta da chi è qui, insomma, anche in commissariato e lavora qui da molti anni? Ma guardi, io provengo da altre zone in cui credo che la criminalità sia né migliore né peggiore di questa qui. Qui ho trovato, diciamo, difficile lavorare nella terra di Libatino. La messa etta ti dà una spinta in più, uno stimolo in più a lavorare meglio.